L'Associazione Sportiva Roma, meglio nota come AS Roma o più semplicemente Roma, è una società calcistica italiana con sede nella città di Roma. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano. Fondata nel 1927 grazie alla fusione di tre squadre, ha come colori sociali il rosso e il giallo. Tonalità cromatiche corrispondenti al gonfalone del Campidoglio includendo la stagione 2023-2024. La Roma ha partecipato a 95 campionati nazionali, 91 in Serie A, 3 in divisione nazionale e 1 in Serie B. Murigno era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione. Ringraziamo Ose a nome di tutti noi all'As Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallo-rosso. Hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione. Ma riteniamo che, nel migliore interesse del club, sia necessario un cambiamento immediato auguriamo a Ose e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro. L'As Roma ha annunciato da poco che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo responsabile tecnico della prima squadra fino al 30 giugno 2024.